Beh ragazzi, non so se voi avete visto le nuove mega evoluzioni ma sono stupendi direi, guardate mega graili con l'abilità pelle gelo che sarà esclusivamente di tipo ghiaccio e stili con l'abilità silico forza, cioè sono stupendi, guardate mega graili lo prenderò di sicuro e tra l'altro queste due mega evoluzioni saranno già disponibili nelle demo, quindi ragazzi nelle demo che io farò andrò a prendere direttamente personalmente il giorno 23 e farò le demo Poi sono state rivelate anche alcune immagini dell'iperbolo, cioè con cui potremmo cavalcare Latios e Latias lungo la regione di N, guardate che spettacolo, bellissimo, alcune foto panoramiche della regione di N, guardate, bellissimo E poi è stato annunciato la distribuzione del billetteone, è stato annunciato il billetteone ma probabilmente la distribuzione avrà tramite internet o cioè tramite Nintendo Network Perché con il billetteone noi potremmo raggiungere l'isola remota per catturare Mega Latios in Drafilo Alpha e Mega Latias in Rubino o Omega Come vedete è il centro programma dell'isola, qui parliamo con il nostro padre e qua arriviamo all'isola remota, spettacolare ragazzi, spettacolare Non mi è stato davvero appuntamento per le demo e per il gioco, quindi noi ci becchiamo ad un prossimo video